Cristian Moretti, direttore di Agrintesa, come va l'annata dei cachi quest'anno per il vostro gruppo? Al momento l'annata si può definire soddisfacente, soddisfacente per quello che è la qualità che è stata conferita dai soci, siamo quasi al termine dei conferimenti del caco tipo, ancora manca la cosa del caco rocchio brillante che matureremo a polpa soda, quantitativi della norma perché prevediamo di gestire circa 6500 tonnellate di prodotto tra le due tipologie, quello che ci ha un attimino sorpreso è il fatto che la pestatura negli ultimi 3-4 settimane è migliorata, quindi oggi abbiamo anche una buona pestatura di prodotto. A livello commerciale la condizionazione è partita da 3 settimane per il caco tipo e da circa 10 giorni per il caco rocco, siamo a regime con quelli che sono i volumi prefissati a budget, è una campagna ancora lunga perché noi arriveremo a tutto il mese di dicembre, però a tutt'oggi diciamo che il mercato è stato un mercato di equilibrio fra offerte e domanda che ha premiato anche il prodotto di qualità e soprattutto il prodotto gestito da un'azienda specializzata come Agrintesa. Al giorno quante tonnellate di prodotto vendete in questo periodo? In questo periodo arriviamo a giornate come oggi dove superiamo le 150 tonnellate di prodotto spedito giornalmente, oggi è venerdì e quindi è chiaro che è una giornata di punta. Grazie.